Il gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano ha partecipato a un'importante manifestazione che si è tenuta nella splendida cittadina medievale di Morsi, in Francia. La presenza alla festa avviene con cadenza decennale. La prima partecipazione risale a 32 anni fa, tre giorni intensi per celebrare il Santo Patrono San César, durante i quali i gruppi di musicanti provenienti da città vicine, assieme ai nostri sbandieratori e musici hanno potuto esibirsi per le vie del centro con lo spettacolare e tradizionale De Fire di Carri e Regolici fatti di fiori di carta colorata. Tutti gli eventi sono stati accompagnati dalle esibizioni degli sbandieratori di Gallicano, gruppo ospite d'onore sempre presente prima e dopo gli spettacoli, un gemellaggio che affonda le sue radici nel lontano 1986. durante la prima partecipazione alla festa, tra il pubblico c'era una bambina di 7 anni che dopo aver visto sfilare gli sbandieratori, musici, rimase affascinata dal suono dei tamburi, dagli squilli delle chiarine e dalle bandiere che venivano lanciate altissime superando i tetti delle case. Nacque così una storia d'amore che dura da 32 anni.